Abbiamo tenuto finalmente di togliere il vitalizio ai parlamentari condannati, questo è un primo passo. Noi avevamo proposto ben alto, molto di più, ovvero di togliere i vitalizi e rivedere tutto il sistema previdenziale dei deputati, dei parlamentari, adeguandolo a quello che è quello di qualsiasi altro cittadino, cioè in base a ciò che si versa. Poi quando si va in pensione, nell'età pensionabile di tutti gli italiani, si può recuperare la somma versata. Nel dettaglio quindi chi non potrà più avere il vitalizio? Nel dettaglio non potrà avere più il vitalizio colui che si è macchiato di reati gravi, ovvero per esempio l'associazione mafiosa, corruzione, sono tanti i reati. Diciamo che tutti i reati che prevedono più di sei anni sono tutti passibili della sottrazione del vitalizio. E poi ci sono anche una serie di reati contro la pubblica amministrazione con pene inferiore ai sei anni, ma essendo proprio contro la pubblica amministrazione e facendo parte delle funzioni tipiche di un parlamentare, ovviamente anche questi fanno sì che il vitalizio decada.